Rientriamo all'orinonda qui su Play, ancora una volta la totale casualità della scelta musicale ci viene incontro perché la musica che sta sfumando in sottofondo è My God is the Sun, the Queens of the Stone Age, il mio Dio è il sole, insomma in termini di energia rinnovabile, forse un tantino esagerato però insomma più o meno ci siamo e vogliamo parlare appunto di trasporto, non necessariamente appunto mosso da energie rinnovabili perché questo è lo stato attuale dei trasporti in Europa anche se si spera che si vada a chiudere questo capitolo il più in fretta possibile ma in generale si parla anche di industria, si parla di lavoro, si parla di economia a livello dell'Europa perché da diversi, forse da diversi anni, ancora più da diversi mesi e in particolare nell'ultima settimana si parla moltissimo della crisi dell'automotive, insomma il settore dell'automobile un po' in tutta Europa. Per l'Italia insomma forse è inutile che ripeta tutte quante le notizie ma insomma tutte quante le casse integrazioni che si vedano negli stabilimenti di Stellantis ad esempio, ha colpito moltissimo l'annuncio di chiusura e di licenziamenti di massa in Germania per quanto riguarda la Volkswagen in Germania per l'appunto, insomma lo scenario è piuttosto fosco, volevamo capire un po' come ci siamo arrivati e poi se ci avanza tempo magari anche provare a capire quali sono le possibili strade per uscirne. Tra i tanti interlocutori ho scelto di rivolgermi a Transport and Environment, un'organizzazione che spinge appunto per una decarbonizzazione, per un trasporto in particolare pulito e lontano dai combustibili fossili e in particolare ne parliamo quest'oggi con Andrea Boraschi, direttore di Transport and Environment per l'Italia. Andrea Boraschi, ciao benvenuto qui su Play. Buongiorno, bentrovati. Grazie a te davvero anche perché uno di quei casi, uno di quelle tante interviste qui su Play in cui affidiamo una missione piuttosto complicata, a chi interpelliamo quella appunto di intanto spiegarci qualcosa che immagino sia molto complicato, quindi io metto un po' le mani avanti. Sì, chiaramente in questi minuti non riusciamo a spiegarvi tutti i motivi per cui c'è una difficoltà per quanto riguarda questo settore, che è un settore immenso, con una storia infinita, quindi tutto non riusciremo a dirvelo. Ma insomma, quali sono i motivi principali per cui è in difficoltà questo settore? Il dito viene puntato soprattutto di recente sulle auto elettriche cinesi. Quanto pesano effettivamente e quali sono magari gli altri motivi che invece pesano? La crisi di questo settore io credo sia una crisi congiunturale, non penso sia destinata a protrarsi negli anni, almeno non nella forma in cui la stiamo osservando oggi. Diciamo anche che è una crisi dell'automotive europeo, non è una crisi dell'industria globale dell'auto. Certamente cade nel mezzo di un periodo di competizione estremamente forte tra Europa, Cina e Stati Uniti e certamente cade nel mezzo di una transizione che è di per sé, per sua natura, una fase complessa di evoluzioni, di evoluzione che è fatta, come dire, certamente di fughe in avanti e di momenti di resistenza, di crisi congiunturali e di tendenze di lungo corso. Se dovessi dirla in una formula terribilmente stringata, quello che io penso dell'automotive europeo è che se noi osserviamo storicamente gli anni in cui la Cina ha sviluppato il suo primato industriale sull'auto elettrica, ebbene in quegli anni le case europee sono prima state impegnate a negare e smentire lo scandalo del dieselgate. Poi hanno perso ulteriormente tempo a puntare sulle cosiddette plug-in hybrid, che sono delle ibride con un motore endotermico e una batteria, ma dal nostro punto di vista sono, come dire, delle elettriche fake. Hanno delle emissioni che sono normalmente tre volte quelle che sono dichiarate in fase di immatricolazione. Oggi, ancora oggi, e negli ultimi eventi dell'industria automobilistica europea, si parla molto di carburanti sintetici, di fuel, che sono dei vettori estremamente costosi, estremamente inefficienti, che non sono oggi disponibili sui mercati, cioè sono un qualcosa di là da venire, che quando verranno saranno disponibili in quantitativi assolutamente esigui e che non risolveranno comunque in ogni caso il problema dell'inquinamento locale, della qualità dell'aria. In altre parole, laddove ci sono dei paesi e delle industrie che lavorano sul lungo termine per lo sviluppo di un primato tecnologico, guardando a quella che necessariamente dovrà essere l'industria del futuro, io ho l'impressione che l'automotive europea sia ancora, e ancora oggi, lo abbiamo visto negli ultimi anni, concentrata sul profitto di breve e medio termine. E questa cosa, prima o poi, la si paga e i nodi arrivano al pettine. Quindi, insomma, anche mettendo da parte, con il cuore pesante, la questione appunto della transizione energetica, quindi la questione della crisi climatica e quindi dell'effetto dei combustibili fossili su, come ci raccontavi, sia la nostra salute quando ci respiriamo vicino, ma anche in generale il riscaldamento globale e tutto il meteo estremo che abbiamo visto purtroppo all'opera nelle scorse settimane. Anche mettendo momentaneamente da parte tutto questo, ci stai dicendo che anche da un punto di vista puramente, significativamente economico, l'aver guardato con sospetto, se non con opposizione al passaggio tra le auto appunto che vanno a benzina, diesel e gas e guardare infatti con sospetto le auto elettriche, questo abbia pesato proprio sulla salute economica delle aziende automobilistiche europee? È un po' questo uno dei quadri? Sì, uno dei quadri è questo, è sicuramente come dici e poi c'è da andare un po' a vedere i numeri in buona sostanza, che io adesso non snocciolo perché sono terribilmente pesanti, però chiunque può fare una verifica e può controllare un dato singolare, che negli ultimi anni, in particolare le case automobilistiche europee, hanno realizzato maggiori profitti, in molti casi profitti esorbitanti, vendendo meno auto, talvolta molte meno auto. hanno privilegiato quindi la vendita di modelli più costosi, di segmenti più alti, di auto più grandi, più potenti, più accessoriate. L'auto come l'abbiamo tradizionalmente conosciuta noi, cioè l'idea dell'auto di massa, quel bene privato, di mobilità, che ha un po' rivoluzionato le nostre società a partire dai tardi anni 50 fino ad oggi, in qualche modo lo si sta un pochino ridefinendo, o almeno per strategie commerciali negli ultimi anni certamente non è quella la traiettoria che hanno tenuto le case europee. La dico anche qui con una battuta, l'auto elettrica nei nostri paesi, nei nostri mercati, è stata introdotta, percepita e commercializzata come una tecnologia, come si dice in gergo di high-end, cioè proprio perché è una tecnologia nuova, proprio perché inizialmente per fattori di economia di scala è più costosa, è stata normalmente proposta, associata a veicoli più lussuosi e più costosi. Nei nostri mercati fa fatica ad entrare, fa fatica a penetrare l'utilitaria elettrica, la piccola city car elettrica, la macchina, diciamo, da poche decine di migliaia di euro. In Cina esistono delle auto elettriche che costano circa 10.000 dollari, o anche un pochino di meno. È un paradigma che è completamente ribaltato, non è la strategia industriale e di mercato che ha tenuto l'automotive europeo e la difficoltà di comunque riuscire a vendere auto in ultimissima istanza sta dentro una fase complessivamente di stagnazione dell'economia europea, in cui c'è stato anche un fenomeno inflattivo, il costo delle auto ha ecceduto largamente il fenomeno inflattivo, quindi negli ultimi anni le auto sui mercati sono arrivate a costare mediamente tra il 17 e il 34% in più dell'inflazione, mentre sappiamo, e in Italia lo sappiamo meglio di chiunque, è che non sempre i salari hanno tenuto il passo di questo andamento. Quindi molto, molto, molto banalmente in Italia c'è un tema, cioè siamo il paese con il più alto tasso di motorizzazione in Europa, abbiamo un parco circolante vecchissimo, estremamente inquinante ed estremamente emissivo, che non tende a ridursi e tuttavia gli italiani non hanno i soldi non per comprarsi l'auto elettrica, ma nella maggior parte dei casi non hanno i soldi per comprarsi l'auto e questo è un tema. Sì, o anche un'auto magari non elettrica, ma magari più sicura, meno inquinante, comunque rispetto ai medielli vecchie appunto non c'è la possibilità, perché le auto costano sempre di più e il potere d'acquisto è sempre meno, molto semplicemente. Questo è un po' un quadro del presente e adesso vi faccio la domanda che è davvero complicata, cioè guardare al futuro. Quali sono le possibili strade che abbiamo di fronte? E ti faccio anche la domandina che spero non sia troppo provocatoria, ma insomma il futuro dell'auto è sempre nell'auto o forse si può guardare anche altrove? C'è da sperare che il futuro dell'auto non venga confermato, cioè non debba somigliare troppo al presente, la crisi climatica, la crisi ambientale ci impongono in qualche modo di ripensare questo mezzo. Noi abbiamo vissuto per decenni in un mondo in cui a quel mezzo aveva tutto sommato accesso una parte limitata della popolazione globale. Tra non molti anni saremo circa 10 miliardi di persone sul pianeta e se noi dovessimo pensare che quel paradigma di mobilità, il possesso privato di un mezzo magari alimentato con fonti fossili per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e il paradigma dominante, certamente abbiamo un bel problema. Per contro bisogna anche realisticamente pensare e sapere che molte delle soluzioni alle quali in questi anni si è guardato con speranza, in qualche modo sembrano non riuscire a sviluppare a pieno il loro potenziale o sembrano non essere, come dire, la soluzione ultima e definitiva al possesso privato di un mezzo. C'è una tendenza delle persone e c'è in diversi paesi, in diversi contesti economici, da quelli più maturi a quelli che lo sono meno, comunque a continuare a guardare l'auto come la risposta, la soluzione ai problemi di mobilità. Ed è per questo che oltre a pensare a come si può fare in qualche modo per evitare che quel mezzo sia il nostro paradigma di mobilità dobbiamo anche pensare a fare in modo che quel mezzo sia il meno inquinante possibile fin quando dobbiamo usarlo e dovremo usarlo. Da questo punto di vista diciamo l'auto elettrica che è la tecnologia più matura, più accessibile, anche più economica, nonostante le auto elettriche ad oggi in Europa costino molto, ma rispetto ad altre tecnologie sono certamente convenienti, di cui disponiamo. E che porta con sé poi una serie ulteriore di benefici. Io la dico così, pochi giorni fa abbiamo presentato uno studio sul potenziale di integrazione dell'auto elettrica con la rete. L'auto elettrica, se continuiamo a pensarla come un'auto, così come abbiamo conosciuto sino ad oggi quel mezzo, stiamo un po' mettendo fuori fuoco. È veramente un oggetto completamente diverso. Per molti è, come si usa dire in gergo, una batteria su quattro ruote e quindi è un sistema di accumulo. È il giorno in cui noi abbiamo milioni di auto elettriche circolanti. Noi abbiamo un sistema di accumulo potenzialmente capace di dialogare con le reti energie elettriche e quindi di stabilizzare il sistema soprattutto rispetto alle fluttuazioni delle energie rinnovabili. Se noi avremo molta capacità di accumulo e una capacità di accumulo per l'appunto molto distribuita, molto minuta, molto capillare, noi avremo bisogno di sviluppare meno rinnovabili, avremo un sistema energetico complessivamente più intelligente e più efficiente. Questo comporterà degli enormi benefici sia in termini di riduzione delle emissioni che anche benefici economici. Questo è un po' il futuro dell'auto elettrica se la pensiamo dispiegata un po' in tutto il suo potenziale. Quello che c'è da fare ovviamente è fare in modo che la transizione non è come dire non sia un percorso che si lascia indietro vittime sulla sua strada e quindi ci sono milioni e milioni di lavoratori in Europa che sono impiegati in questo settore. È chiaro che è un settore critico dal punto di vista ambientale. Oggi le emissioni del settore dei trasporti rappresentano all'incirca un quarto delle emissioni totali sia in Italia che in Europa, ma il settore dei trasporti è quello che sta andando peggio di tutti gli altri in termini di riduzione delle emissioni e le previsioni ci dicono che al 2030 questo quarto sarà diventato all'incirca la metà delle emissioni. E quindi è chiaro che è il settore che dovremmo aggredire con maggiore convinzione. Io penso che se l'Europa oltre a darsi degli obiettivi sacrosanti di decarbonizzazione di questo e di altri settori non si dota anche di strumenti economici robusti per fare in modo che si sia in grado prima di tutto di tenere la competizione con altre superpotenze degli Stati Uniti e la Cina, ma poi anche di fare in modo che al nostro interno la produzione non debba sempre andare a spostarsi in paesi dove il costo del lavoro è più basso, dove il costo dell'energia è più basso eccetera eccetera. Ecco, se l'Europa non fa questo, io penso che il progetto europeo stesso, il progetto di Europa stesso andrà incontro a grandi problemi. Chiaro, in tutto questo è impossibile non pensare al percorso della ex GKN di Firenze, è un caso singolo, un caso però molto emblematico, anche dal punto di vista della progettualità che un po' va per certi versi nella direzione che ci racconti tu, chiaramente la responsabilità non può essere quella dei singoli lavoratori di una singola fabbrica, la responsabilità. Invece è allargata tutta l'Unione Europea, oggi iniziano le audizioni in Parlamento Europeo dei nuovi commissari per la nuova barra vecchia Commissione Europea, chissà insomma che direzione decideranno di prendere in questo e in altri ambiti, insomma potremmo parlare per davvero molto di questi argomenti molto complessi ma anche molto affascinanti, ma per ora direi che possiamo chiudere questo capitolo, grazie mille davvero ad Andrea Boraschi, hai citato appunto un rapporto, sono tanti i rapporti che pubblica Transport and Environment, sul loro sito li trovate, li potete leggere, li potete consultare, vi consiglio di dar loro un'occhiata, ma ancora appunto Andrea, grazie mille davvero, alla prossima. Grazie molto a voi, buona giornata.